Tre giorni di digiuno per tornare a ribadire l'urgente necessità di misure concrete al fine di migliorare la situazione delle carceri italiane. Questo il motivo della mobilitazione collettiva messa in atto dalle persone detenute del carcere di Montorio, un gesto concreto e con un risvolto solidaristico visto che a Verona si è deciso di devolvere le derrate alimentare non consumate alla Caritas. Così come si legge nel comunicato dei detenuti divulgato alla stampa, parola d'ordine dell'azione di questi giorni è sovraffollamento. Hanno voluto veramente consegnare alla politica soprattutto ma anche alla città per quanto riguarda Verona ma all'Italia intera perché tutte le carceri hanno fatto azioni, stanno facendo azioni, hanno voluto consegnare quello che è il loro pensiero, il loro stato d'animo ma come dire con grande civiltà lo hanno fatto e basandosi su quelli che sono davvero i loro diritti. Non possiamo immaginare che un luogo che può ospitare 450 persone ne possa mediamente contenere 870, ciò è impossibile perché come è scritto nel loro comunicato significa privarli dell'assistenza di cui c'è bisogno, significa privarli soprattutto di spazio, privarli di quella minima attività di movimento per non parlare del lavoro ma poi anche anche delle risorse che sono a disposizione. Quindi queste tre giorni in cui hanno come dire rinunciato al cibo che proviene dall'amministrazione penitenziaria io credo che sia un esempio per far sì che anche la politica abbassi i toni, usi i termini giusti, per esempio svuota carceri, per favore, basta e cominci a fare le cose. Strasburgo è lì, è dietro l'angolo, a maggio dobbiamo aver fatto le cose, siamo ai primi, siamo oramai verso ottobre direi, no? Quindi non è che ci manca poi tanto, quindi le cose vanno fatte, teniamo presente che in questi giorni si operano gli avvocati, non si tengono le udienze, hanno si operato più di 100 direttori penitenziari, ora questo vuol dire che il problema non è dei garanti, non è solo dei detenuti, voglio dire è un problema un po' più serio. Grazie a tutti.